Buongiorno a tutti, iniziamo la conferenza stampa, Paesano, Roma Radio. Buongiorno mister, dopo la sosta come ha trovato la squadra? Allora, finalmente ho rivisto lo spogliatoio pieno, naturalmente chi era stanco ha fatto soltanto bagno e massaggio, un po' di cure, per cui oggi li rivedrò tutti in campo. Però, insomma, li ho visti belli propositivi e questa è la cosa più importante. Calicchia, Roma TV. Salve mister, Roma Napoli sarà anche lei contro Carlo Ancelotti, più di mille panchine ciascuno, eppure vi siete affrontati soltanto sei volte nel corso della vostra carriera di allenatori. L'ultima dieci anni fa, sarà una sfida nella sfida questa? Beh, ritrovare Carlo è sempre un piacere, ex grande giocatore, grande allenatore, e sono molto contento di salutarlo. Spero che sia una partita positiva per noi, naturalmente. Senta, Ranieri, dopo Ferrara usò un tono verso la squadra di grande provocazione, molto forte. Che effetti si aspetta? Nel senso, quando è così, lei ha molta esperienza, sa che o il gruppo si compatta o si sfalda di fronte a una comunicazione così importante. Che tipo di reazione si aspetta dopo quelle parole? Beh, naturalmente, se ho fatto una comunicazione forte, mi aspetto una risposta forte. Un allenatore non fa nulla per nulla, per cui mi aspetto da giocatori importanti, da giocatori che giocano nella Roma, una grossa risposta di carattere e di personalità. E poi le volevo chiedere sui giocatori che sono tornati dall'esperienza in giro per l'Europa. Un po' in difficoltà sembra il portiere Olsen, se sta pensando di mettere in discussione la titolarità del portiere svedese in questo momento. No, per me Robin è un buonissimo portiere, mi è piaciuto prima che venisse alla Roma, già lo seguivo, per cui ha la mia fiducia. Pastore, il romanista. Buongiorno. Eccomi. Per la prima volta da quando è tornato a Roma potrebbe riavere a disposizione De Rossi e Kolarov. Cosa possono dare in termini di personalità a una squadra che quest'anno ha lamentato diverse lacune caratteriali? Beh, sono due giocatori importanti, sono due pezzi da 90 di qualsiasi squadra. Per cui se dovessi averli tutti e due in campo sarebbe una grossa gioia per me, per la squadra, per i nostri tifosi. Naturalmente dovrò valutare bene tutto perché piano piano stanno ritornando un po' tutti a disposizione, anche se non stanno al 100% e come sono io 100% nel corso della partita, per cui devo valutare bene tutte le risorse che ho a disposizione e per come sono fatto io poi non mi piace mai rischiare di perdere un giocatore, preferisco non averlo per una partita e non perderlo poi per 3-4 partite. Questa è la mia filosofia, è stata sempre la mia filosofia come allenatore, per cui valuterò bene ogni scelta che farò, sperando di non portarli ad una fase critica. Cecchini, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno, mister. Ciao. Volevo chiederle questo. Secondo lei è piombato in questo universo Roma all'improvviso, ha trovato una situazione tecnica, tattica, di infortunistica, di caratteri particolari. Se lei riuscisse o riuscirà nell'impresa a riportare la Roma in zona Champions League, che è l'obiettivo che tutti si prefiggono, sarebbe uno dei successi più grandi che ha avuto in carriera? Non il più grande, ma uno dei traguardi più importanti, visto le basi da cui è partito e di cui si accorge? E se questi dissidi che ci sono stati nello spogliatoio, la liteggia con il Sharawi, possono avere strascichi nel prossimo futuro? Allora, io credo che questa squadra abbia le potenzialità per lottare, per entrare in Champions League. Ci sono altre squadre, davanti a noi e dietro di noi, che spingono forte. Per cui io mi auguro che i miei giocatori riescano a reagire, a reagire forte ad ogni avversità che si sta preannunciando o che ci siano state. Il fatto di Sharawi e Dzeko è un fatto normale, uno scazzo normale che avviene in ogni famiglia, per cui è tutto a posto e questa è la cosa più importante. Dubaldo, il Corriere dello Sport. Buongiorno Claudio, ma tu che hai risposto al richiamo del cuore quando sei stato chiamato per guidare la Roma, non ci hai pensato un attimo, non hai guardato i numeri che c'erano sul contratto e tutto quanto, ma dopo quello che ti sei trovato di fronte, una situazione con tanti infortunati, una situazione anche con uno spogliatoio un po' rovente, in questi giorni di riflessione che ci sono stati con la pausa, ti sei detto, magari tra te e te, davanti allo specchio quando ti facevi la barba, ma chi me l'ha fatto fare? No mai, no mai perché insomma la Roma l'ho sempre seguita, anche se stavo lontano ho sempre seguito tutto e voi raccontate fin troppo bene tutto, per cui sapevo dove venivo, sapevo che è una cosa, un fatto eccezionale, per cui mi sono messo al lavoro, mi sono messo al lavoro e spero che il mio lavoro alla fine dia i frutti sperati da tutto. L'ultima piccola cosa che ti voglio chiedere, già dal primo giorno del tuo arrivo a Roma hai fatto riferimento ai tifosi, quanto sarà importante il loro apporto in queste due partite all'Olimpico che avete nel giro di quattro giorni? Ma il rapporto tifosi-squadra a Roma è tutto, è tutto, lo è sempre stato e lo sarà sempre, io l'ho sempre detto, l'ho sempre pensato, cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori, cambiano i presidenti, ma il tifoso resta, il tifoso resta con amore, con passione, il tifoso romanista è passionale, e lo dico sempre alla squadra, il tifoso a Roma vuole vedere che tu dai tutto sul campo, poi se sbagli viene anche accettato, per cui è quello che chiedo sempre alla squadra, dai tutto perché i nostri tifosi capiscono che tu stai dando tutto, per cui i nostri tifosi sono la nostra arma in più, sono la nostra arma in più che ci possono dare veramente quella fiducia, quella consapevolezza nei nostri mezzi e soprattutto quando c'è un errore è lì che il pubblico deve incoraggiare, perché stare su una piazza importante come Roma, sapere di aver fatto un errore, un passaggio sbagliato e tutto, con il pubblico che ti rumoreggia è un altro colpo che tu hai, per cui spero che i nostri tifosi capiscano questo momento psicologico della squadra e ci stiano dietro con fiducia e con amore. Una domanda a testa per cortesia, Valdiserri, il Corriere della Sera. Buongiorno, volevo tornare su Ferrara per chiederle questa cosa, lei durante l'intervallo ha scelto di sostituire El Sharawi, mentre per esempio Geku è rimasto in campo, insomma hanno litigato, per cui in teoria si poteva pensare o a una punizione per tutti e due o che tutti e due giocassero, e volevo capire se il giocatore era in quel momento magari non un po' sconvolto così dal litigio oppure se è stata una scelta tattica perché la squadra del primo tempo non le era piaciuta e se c'è qualcosa in questo attacco che ancora non la convince. No, 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 è stata soltanto una riflessione tattica perché loro naturalmente sono abituati a giocare con il 4-3-3, per cui i due esterni fanno un certo tipo di lavoro e con il 4-4-2 ne fanno altri. Per cui io già avevo parlato con El Sharawi prima e gli avevo chiesto determinate cose come quarto di sinistra, non facendole e avendo già in mente di mettere dentro Perotti e ho fatto il cambio, ma è stato un cambio tattico e non è dovuto alla discussione che hanno avuto. Prego. Trinca delle Radio Stere. Salve mister, quante possibilità ci sono che Manolas rientri al centro della difesa e se ha pensato ad un eventuale compagno ideale per caratteristiche fra gli altri centrali, qualora dovesse farcela lui insomma? Allora, in pratica avevo un po' risposto prima. Ho diversi giocatori che stanno rientrando. Costas ancora non sta in gruppo con me. verrà oggi fuori, ho la piacevole visione che tutti vogliono giocare, tutti vogliono essere disponibili, tutti vogliono esserci in questo momento di difficoltà e questo per me è un buon motivo di soddisfazione, vedere che tutti vogliono esserci. sarò io a vedere perché non posso mettere tutti insieme tutti gli infortunati. Dopo io ho solo tre cambi a disposizione e poi io non li voglio riperdere per più lungo tempo. Per cui vedrò, valuterò. Lui vuole giocare, già me l'ha detto, però io devo valutare bene il tutto. Quale caratteristiche e qual è il difensore? Tutte e due i difensori sono bravissimi, per cui non ci sarebbe problema di scelta tra Fazio e Ivan. Carboni, Centrosono Sport. Mi sarà affrontata una squadra che vuole tenere la palla, vuole muovervi la palla per attaccarvi dietro la pressione. Le chiedo, quanto sarà importante non far pensare il Napoli e soprattutto se si può chiedere ai giocatori offensivi qualche rincorsa in più, un po' come l'hanno fatta con l'Udinese, ad esempio la Sagna, per andare a disturbare il possessore quando non guarda. Il Napoli è cambiato con Ancellotti, è molto più verticale, per cui vanno subito al dunque. Vogliono arrivare subito a mettere la palla per gli attaccanti, per cui noi dovremmo essere molto attenti tra le linee, perché loro cercheranno sempre questa palla filtrante nel nostro centrocampo. Per cui, sì, pressare sì, però si fa pressing quando tu hai nelle gambe 90 e passa minuti di pressing offensivo, se no conviene stare un attimino giudiziosi e pressare al momento giusto. Facciamo l'ultima. De Angelis, Redesport. Buongiorno, mister. Buongiorno. È stata una stagione particolare tra infortuni, aspettative disattese, tutta la questione stadio che i tifosi aspettano con grande ansia. C'è molta negatività in questo momento. C'è un elemento o più elementi positivi a cui i tifosi possono appellarsi per questo finale di stagione? E poi la scelta di fare le conferenze stampa con un giorno d'anticipo, perché? Per dirvi meno cose. No, capite che preparare una partita non è uno scherzo. Per cui, stando all'estero, mi sono abituato a farla due giorni prima. E ho visto che è molto meglio, perché tu puoi concentrarti totalmente sulla squadra. Per cui vi chiedo questo piccolo sacrificio in questi ultimi due mesi. So che siete molto comprensivi e vi ringrazio. L'altra domanda era se possono essere positivi i nostri tifosi. Beh, io credo che il tifoso della Roma è sempre positivo. È sempre positivo, per questo poi dopo ci resta male. Dobbiamo appellarci alle partite che ci sono. Ci saranno ottimi scontri, valevoli per una piazza importante. Per cui mi auguro che noi tifosi si sia fiduciosi, speranzosi e che si riesca ad ottenere l'obiettivo che tutti quanti abbiamo a cuore. Grazie a tutti. Buon giorno. Grazie. 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 Grazie.